Sì, 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 sotto per Gatti, Gatti va a schiacciare, due punti. Maiocco si ferma, sotto la palla per Cazzaniga contro Bassano, campione che è un attimo difensore, gancio di Cazzaniga, due punti per Robert Cone, 18-4 per Degnano. E rimbappe di Nuovi e si è fatto male, un altro che si è fatto male, poi spada di Cazzaniga. Porta i suoi a meno dieci, anzi meno indici. Ultimo tacco per Degnano, Milani, Milani va a posare, due punti. Tommaso Milani e riporta più tredici suoi sulla Sirena. 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 Sirena.